Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi con Orgasmic, sono qui a portarvi un nuovo episodio di Se Fossero su FIFA 15. Un episodio che, come ricordo, conterrà due giocatori, chiamiamoli, normali, più una leggenda che ho introdotto dallo scorso video. Mi avete scritto tantissime leggende, per cui sono innanzitutto contento del supporto, soprattutto, e comunque dei tanti commenti mi piace lasciati. Continuate così, ovviamente, e comunque piano piano le leggende le farò più o meno tutte, quelle che mi consigliate nei commenti, per cui una video poi le finiremo prima o poi. Quindi cominciamo con i giocatori di oggi. Il primo giocatore che mi avete consigliato in tantissimi negli scorsi video, cioè Alessandro Diamanti, che dalla Cina torna in Italia alla Fiorentina con questa carta inguardabile. Cioè, a prima vista, sì, le statistiche sono abbastanza inguardabili. Ricordo che le statistiche le faccio con la tabella per il calcolo delle statistiche di Ultimate Team, con comunque le statistiche di Sofifa. Quindi sono per forza queste le statistiche che lui ha su FIFA, anche se non è su Ultimate Team. Perché sono sorpreso? Perché l'anno scorso era un 83 diamanti, in FIFA 14 era un 83 ed era una carta, senza dubbio, molto, molto buona. Io non so come spiegarmi il fatto che in un anno questo ha perso 8 di overall e le statistiche sono calate proprio a picco. Va bene che ha la sua età più di 30 anni, va bene che è andato in Cina, poi è tornato, ha giocato non so poco, magari non ha passato momenti felicissimi, però una diminuzione, una riduzione così radicale delle sue statistiche veramente mi ha fatto prendere uno spavento. Tant'è che non ci credevo neanche, l'ho fatto tipo tre volte il calcolo perché non ci credevo. Quindi probabilmente sarebbe stato meglio da argento che da oro, ovviamente. Due piede debole, quattro abilità, forse era come l'anno scorso, non ricordo. Comunque, passiamo oltre, passiamo a un altro giocatore che molti mi hanno consigliato, cioè Germain Lens, olandese della Dynamo Kiev, che l'anno scorso c'era la carta su Futed, ma non era nel gioco. Quest'anno non c'è neanche, neanche quest'anno ovviamente, perché gioca nella Dynamo Kiev, quindi in Ucraina, e quindi in Ucraina c'è solo lo Shakhtar su Ultimate Team, per cui lui non c'è. Beh, queste sono le statistiche anche di Sofifa, che comunque, secondo me è una buona carta, con delle ottime statistiche, adesso ovviamente non so se è oro, non raro, oro rara, però comunque sia. Nel caso fosse su Ultimate Team sarebbe sicuramente una carta da provare, anche se è solo un 77, però ha delle statistiche davvero molto buone. Una buona velocità, un ottimo tiro, un ottimo dribbling. Peccato, ecco, che non avrebbe mantenuto le 4 stelle abilità che l'hanno caratterizzato comunque negli scorsi anni, l'anno scorso comunque lui c'era su World Cup, anche se aveva l'immagine sbagliata su Futed, aveva comunque 4 stelle abilità come negli anni passati, invece quest'anno su Sofifa gli hanno messo 3 stelle abilità, non so perché. Comunque sia, è senza dubbio una carta molto interessante. Andiamo con la leggenda di questo episodio, leggenda che ovviamente non potevo non trattare, cioè Maradona, e Maradona, la leggenda calcistica degli ultimi anni, è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, io ovviamente le statistiche le ho messe un po' a caso, nel senso mi sono un po' basato sul mio istinto, ma soprattutto sulle prediction che hanno fatto altri, perché ovviamente io Maradona non l'ho visto giocare mai, come penso la maggior parte di voi, solamente da video, clip, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente non so quanto le statistiche possano essere veritiere, comunque sia, vabbè, non lo so. In ogni caso Maradona ha scritto gran parte della storia del calcio, quindi secondo me è giustissimo mettere un overall uguale a quello che ha Pelé quest'anno, quindi 95. Qui non siamo nel luogo adatto forse per dire se Maradona è meglio di Pelé, se Pelé è meglio di Maradona, perché comunque sarebbe abbastanza complicato stabilirlo. In ogni caso, ripeto, Maradona ha scritto la storia del calcio, si merita delle statistiche altissime come quelle che ha, io mi auguro che l'anno prossimo lo inseriscano nelle leggende di FIFA 16, anche se, da quello che so, ci sono stati delle dispute, non lo so, tra Maradona e la EA Sports, adesso non vorrei dire cavolate, però se qualcuno sapesse qualcosa al riguardo lo scriva nei commenti, e quindi bisognerà vedere, bisognerà vedere, noi speriamo tutti, perché comunque, anche se non siamo tifosi del Napoli o Argentini, questo è un giocatore leggendario, quindi possiamo solo sperare che possa uscire. Ovviamente, nei prossimi episodi, ragazzi, farò anche i vari zanetti, i vari battistuta, come mi avete scritto, basta solo aspettare un pochino. Se comunque avete consigli sulle varie statistiche, scrivetelo nei commenti. Comunque, raga, con Maradona finisce qui l'episodio di oggi, spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 400 uscirà un nuovo episodio, scrivetemi nei commenti tutto quello che vi ho detto durante questo video, e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link, come sempre, li trovate in descrizione, e ci vediamo al prossimo video. Bella raga!